Francesco, noi siamo pronte. Chiara de Fabarone, avete da tornare a casa, alla potestate dello padre tuo. Vuoi stare a servizio da ste monache? Perché? Voglio vivere un po' per tate. Madonna Chiara, guaritami sta creatura. Ave segnato la fronte, la Fio si risanò, facendo un miracolo. Noi sortiamo tutte quando serve, per portare le tovaglie nelle chiese, per consolare le anime, i corpi degli infermi. Noi la clausura non la vogliamo fa'. Ma voi non siete frati, siete femmine. Avete pagura? Siamo perigliose? La femmina fa tentazione nello peccato con lo periglio dello corpo e delle carni sue. Stateve qua, stateve longe dalle femmine. ci chiedono le porte dello monasterio se troviamo il partito. No! Cari! Mi vuole maretta a forza. Signor Dio! Mi fate male! Lassate la sorella mia! Ma non la lasso, resta qui! No! 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 Si ad amesso dello demonio. Come lo facessi? Dicono che sei santa, che facci lì in miracola. Oh, per la mortista. In Roma si parla tanto de' voi. Non volevo che mi chiamano santa, non volevo. Io volevo solo star con la gente, Francesco. Poi forse un giorno ci rincontreremo. Poi forse un giorno ci rincontreremo. Poi forse un giorno ci rincontreremo.